La Guardia di Finanza di Roma ha arrestato Francesco Nirta, 25 anni, considerato vicino a esponenti delle cosche di Indrangheta, Nirta e Mammoliti. Nirta è stato catturato nei giorni scorsi nell'ambito di attività di monitoraggio della presenza di elementi anche di spicco di consorterie criminali sulla piazza Capitolina. Il GICO, Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Tributaria, ha individuato e ricercato grazie a investigazioni sul territorio svolte anche dal GOA, Gruppo Operativo Antidroga. MIRTA era fuggito all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per traffico di sostanze stupefacenti emesse il 4 dicembre del 2012 dal Tribunale di Reggio Calabria. Il giovane è stato individuato tra le migliaia di viaggiatori della stazione Termini, all'apparenza uno studente fuori sede, ha dichiarato di essere iscritto all'Università di Messina in architettura, ma con un abbigliamento ricercato e un costoso orologio al polso. Alle 13.45 è salito sul treno per Reggio Calabria e dopo dieci minuti gli uomini del GICO lo hanno fermato chiedendogli i documenti. NIRTA ha mostrato un documento falso e ha detto che stava tornando a casa per le vacanze estive, ma in seguito ha dovuto confermare la sua identità. Informata la direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, è stato individuato il covo dei latitanti a Roma in via Maglio Torquato in zona con gli Albani. Nell'abitazione è stato trovato un dispositivo elettronico per la ricerca di microspie. NIRTA è stato portato nel carcere di Regina Celia a disposizione delle procure di Roma e di Reggio Calabria.